Cosa ne penso del mio avversario? Penso che come fighter in generale Penso che come fighter in generale non sia un avversario un po' strano Nel senso che non è il fighter di MMA tipico È un po' atipico infatti, cioè lui è forte schiena a terra, va alle gambe Dobbiamo stare attenti a quello, per il resto come fighter in generale non è chissà che completo E chissà che forte anche Cioè non è del mio livello sicuramente secondo me Quindi prese in considerazione queste cose qua E secondo me farò molto bene Anzi devo proprio finire il match e dimostrare a tutti che appunto sono lì E devo riprendermi una shot titolata e poi prendere il titolo stavolta Quindi l'obiettivo non cambia e è sempre quella Però intanto devo pensare a lui e spaccare a Londra dove ci saranno un sacco di italiani a vedermi E quindi è importante che mi porto a casa sto match nel modo più dominante possibile E quindi è molto più importante